Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno per tutto il giorno pace e bene. Oggi la Chiesa celebra la memoria di San Leone Magno, Papa e Dottore della Chiesa. Auguriamo una buona festa a tutti quanti che si chiamano Leone. Ecco, dal Vangelo secondo Luca, capitolo 17, versetti 7 a 10. Ascoltiamo. In quel tempo Gesù disse Chi di voi, se ha un servo ad arare o appascolare il gregge, li dirà quando rientra dal campo? Vieni subito e mettiti a tavola? Non, li dirai piuttosto, preparami da mangiare, rimboccati la veste e servimi finché io abbia mangiato e bevuto e dopo mangerai e berrai anche tu. Si riterrà obbligato verso il suo servo perché hai seguito gli ordini ricevuti. Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite, siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore. Ecco, carissimi, in questo brano io ritengo proprio l'ultima frase. Siamo i servi inutili, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Attenzione, questa inutilità non vuol dire che noi non valiamo nulla agli occhi di Dio. No, noi abbiamo un valore. Già Cristo ha versato il suo sangue per noi, il valore c'è. Ma questa inutilità vuol dire che noi siamo gli strumenti del Signore. Dio passa tramite noi. Dio usa noi per comunicare la sua volontà al suo gregge per realizzare ogni progetto. Ecco, questa inutilità si traduce anche nella gratuità del servizio. Per esempio, nei nostri uffici, il servizio che rivolgiamo, ciò che conta, non tanto lo stipendio che si riceve alla fine del mese, ma l'amore con cui noi rivolgiamo il servizio. Un servizio fatto bene, colui che lo riceve è contento, ringrazia il Signore. Ringraziando il Signore ringrazia anche noi e noi riceviamo grazia su grazia da parte di Dio. Ecco, carissimi, dunque non pensiamo che ogni cosa dovremmo sempre cercare un interesse. No, chiediamo allo Spirito di fare di noi questi strumenti che non cercano l'interesse, che non cercano la ricompensa, ma solo rivolgere un servizio con amore, con gratuità. Il resto Dio ricompenserà. Vi auguro una buona e santa giornata. Dio vi benedica sempre. Dio è buono in ogni momento. In ogni momento Dio è buono.